Il rinomato attore Daniele Liotti, amato volto delle produzioni italiane, non è l'unico membro della famiglia Liotti a calcare le scene. Infatti, il giovane Francesco Liotti, figlio di Daniele e della sua ex compagna Arianna, sta emergendo come una promessa nel panorama della recitazione nel nostro paese. Nato nel 1998, fin dalla sua tenera età, Francesco ha dimostrato un profondo interesse per la recitazione. Dopo aver studiato con impegno al Centro Studi Acting di Roma, ha intrapreso una collaborazione con l'Agenzia Artistica di suo padre, Officine Artistiche. Grazie a questa preziosa opportunità, Francesco ha fatto il suo notevole debutto in La Compagnia del Cigno, una delle fiction più seguite della RAI. In questa produzione, ha recitato al fianco di attori di calibro come Anna Valle e Alessio Boni. Sebbene avesse avuto un piccolo ruolo in un film da bambino nel 2005, è con La Compagnia del Cigno che Francesco ha davvero mostrato il suo talento. A differenza di suo padre, Francesco preferisce mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita privata. Evita i social media e raramente condivide dettagli della sua sfera personale, creando un alone di mistero intorno alla sua situazione sentimentale attuale. Tuttavia, non è un mistero l'intenso legame che condivide con suo padre Daniele. Francesco ama accompagnare il suo stimato genitore agli eventi, sottolineando la profonda connessione tra i due. Nonostante la separazione dei genitori quando aveva solo tre anni, Francesco è cresciuto in un ambiente sereno. I suoi genitori hanno sempre fatto del loro meglio per garantirgli un'infanzia tranquilla, caratterizzata da amore e supporto reciproco. Un episodio significativo che rivela l'affetto profondo di Francesco per suo padre è stato quando Daniele ha annunciato di aver preso il posto di Tiananzeo in un passo dal cielo. In quell'occasione, Francesco è scoppiato di gioia e orgoglio. Questo momento ha non solo rafforzato il legame tra padre e figlio, ma ha segnato una svolta cruciale per il giovane Liotti. Ha confermato la sua determinazione a diventare un grande attore, sfruttando il talento ereditato e l'esperienza accumulata. Possiamo aspettarci di vedere Francesco Liotti brillare ancora di più nel prossimo futuro, portando avanti il prestigio della famiglia nel mondo dello spettacolo. Ti ringraziamo per averci seguito e ti invitiamo a iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Se vuoi puoi supportarci anche con un super grazie che trovi sotto il video. Non mancare!